Sono state 18 le aziende vincitrici del Klima House Trend 2013, un riconoscimento speciale istituito da Fiera Bolzano in collaborazione con il gruppo 24 Ore, per quelle aziende che in occasione di Klima House hanno presentato materiali o sistemi costruttivi in grado di coniugare tecnologia e soluzione formale. La graduatoria del 2013 è stata stilata dalla giuria guidata dall'architetto Fabrizio Bianchetti, che per ognuna delle sei categorie di prodotti o sistemi individuate ha premiato tre aziende a pari merito. Per la prima categoria, denominata Involucro Opaco, il premio Klima House Trend 2013 è stato conferito a Pontarolo Engineering per KlimaBlock. Sono l'ingegnere Pontarolo Valerio, presidente e fondatore della Pontarolo Engineering S.p.a., un'azienda nata circa 15 anni fa, che si è presentata a Klima House l'anno scorso e con KlimaBlock è un innovativo prodotto che sta avendo un successo elevato. Si pensi che nel 2013, in piena crisi dell'edilizia, noi abbiamo un trend di circa il 30% su questo prodotto qui, in più rispetto al 2012. Ecco, KlimaBlock è il nostro prodotto che serve per fare delle abitazioni in struttura tradizionale in cemento armato completamente antisismiche, ma soprattutto con delle performance sotto l'aspetto energetico assolutamente eccezionali, da classe A in su o anche passive.